Un minimo depressionario sull'Egeo, con debole afflusso di aria fresca in quota, mantiene residui e condizioni di stabilità sul sud della nostra penisola. Campo di alta pressione interessa gran parte dell'Europa, con massimi tra Polonia e Russia. In Toscana, domenica 9 agosto, cielo sereno poco nuvoloso, moderato sviluppo di nubi con uniforme durante il pomeriggio nell'interno, venti deboli da nord-est in rotazione maestrale, mari poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio a sud di Livorno, temperature quasi stazionari e un ulteriore lieve aumento nell'interno, con punte di 35-37 gradi nelle pianure interne. Sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 21, massima 33 gradi, a Castelnuovo Garfagnane e zone montane minima 18, massima 34, a Viareggio e sul litorale minima 22, massima 31 gradi. Lunedì ancora tempo stabile e soleggiato, temperature quasi stazionari.